Quando a Sant'Agata la derubarono furono poi installate le grate di ferro. I proverbi non si sventiscono mai. E l'indomani della notizia che sarebbe passata in sordina, se il sindaco di Caltanisseta Giovanni Ruvolo non se ne fosse accorto, anche lui casualmente, della soppressione del trauma center, arriva la politica che con un botte risposta continu comincia a cercare le colpe senza aver fatto nulla per aggirare il problema. Per Giancarlo Cancelleri chiede il ritiro dell'atto all'assessore Ruggero Razza, c'è Michele Mancuso che assicura che tutto ritornerà alla normalità per sedare le polemiche. Da Giancarlo Cancelleri che chiede l'audizione di Ruggero da Razza, assessore alla sanità in commissione, a Michele Mancuso appunto che assicura che il governo regionale manterrà la struttura e che ribalta la domanda al governo nazionale. A conduzione 5 stelle il ministero della sanità. Mentre la parola fine alla cherelle la dovrebbe mettere l'assessore Ruggero Razza e lo fa, spiega in una nota che il taglio è stato previsto dal decreto Balduzzi, decreto ministeriale nazionale che ha tagliato il trauma center con meno volume di lavoro e che la regione lo manterrà con i propri fondi e ne realizzerà i locali. E minaccia di rifarsi in sede legale con chi offende l'operato del governo stesso. La questione comunque non è chiusa e resta ancora aperta. Grazie.